Vi segnalo una cosa che non tutti sanno, ce ne sono tre di fontane della farmacia a Villano, una è questa, le altre due sono una in Viale Piceno vicino a Dateo che è chiusa, non esce più niente, l'altra è in Piazza Sant'Angelo che è vicino a... L'hai vista quella? Ogni tanto sembra che la facciano ripartire, di solito però quella è spenta, a volte naturalmente però, per il solito non è spenta sempre. Questa è una fatta nel 1228 l'ingegnere Amorosi, ci dovrebbe essere da qualche parte, anche qua acqua non potabile però la gente la prende lo stesso. Tutte e tre le fontane hanno pianta ottagonale come questa. Per Sant'Angelo vado a vederla oggi. Ah, che qui le... gli occhi della Madonna.